Benissimo, benvenuti, ora vedremo come entrare in Cloud Party Cloud Party si può entrare comodamente con Google Chrome oppure anche con Firefox difficilmente si riesce con Internet Explorer quindi vi consiglio Google Chrome che appare essere il migliore si cerca Cloud Party e la prima cosa, o una delle prime cose è appunto Cloud Party di queste vedete ci sono anche Cloud Party Forums e Cloud Party Wiki che sono parti molto interessanti e importanti ora Cloud Party quando noi cerchiamo di entrare in Cloud Party c'è un video di benvenuto e proviamo il Try It Now ora, se la vostra scheda grafica è riconosciuta cosa che potrebbe anche non essere vi permette di scegliere un account e di poter entrare ora possiamo provare a entrare con un nuovo account per esempio questo quindi una volta scelto un avatar si va avanti e poi si può registrare con un email quindi possiamo mettere un email scusate più clicchiamolo a test 1 gmail.com vediamo se ce l'accetta allora, in questo modo stiamo entrando senza usare né Facebook né Google Plus vedremo che in realtà l'ideale sarebbe di usare Facebook perché entrando con Facebook si è già automaticamente verificati entrando invece con un email di questo tipo occorre poi fornire se si vuole fare tutte le funzionalità di Cloud Party anche una carta di credito oppure connetterlo con un account di Facebook alcuni hanno protestato perché hanno detto che Facebook richiede di fare dell'operazione per il loro conto quindi se non volete avere questi vincoli con Facebook o con Google Plus dovete per forza entrare con un email così e poi eventualmente fornire la vostra carta di credito quindi facciamo Create Account e vedete che la prima cosa che succede è che si entra in un in un tutorial island perfetto e questo cosa fa? vi permette di vedere come ci si muove quindi allora cosa facciamo? proviamo proviamo a cliccare vedete lì cerca di c'è una freccia dice clicchiamo lì quindi noi clicchiamo là e vedete che ci muoviamo perfetto allora questo qui poi ci possiamo muovere anche con le freccine vedete mi muovo oltre alle freccine in avanti a sinistra e a destra possiamo anche usare A D quindi D per destra S per tornare indietro e W per andare avanti che sono le cose fondamentali ok? poi ci sta spiegando anche che possiamo girare col mouse quindi puntiamo sul cartello ad esempio poi muoviamo il mouse e possiamo vedere in alto o in basso semplicemente tenuto premuto il click del mouse e sto trascinando il mouse tenendolo cliccato adesso lui dice di girare e fare un giro completo quindi semplicemente trascino tutto a sinistra e faccio un giro completo e per finire il tutorial quindi sempre trascinando andiamo vedete qui mi sta dicendo come si fa a cliccare e trascinare o col sinistro o anche col destro e se questo è un trucco che vi dico io se cliccate tutti e due i tasti potete fondamentalmente correre e andare avanti ora l'obiettivo qui è di arrivare fino alla porta per andare avanti basta cliccare sulla porta e si entra praticamente nella tutorial zone 2 tutorial zone 2 dove abbiamo la possibilità di costruire quindi cosa succede? ci viene dato un pannello dove possiamo fare una costruzione nello stile di Second Life come facciamo a farlo? quindi clicchiamo sul come dice lui sul blocco il cubo possiamo selezionare le dimensioni del cubo quindi accettiamo un cubo di un quarto di metro e poi lo mettiamo per terra se no potremmo prendere anche un cubo tipo quelli di Second Life di mezzo metro ok dopo di che lui ci dice oh se volete costruire potete fare bloc extrude quindi estrudere o anche ctrl x quindi con ctrl x oppure cliccando qua andate su una faccia vedete che diventa verde poi tenendo cliccato e qui c'è un attimo di allora clicchiamo su un pezzo ecco vabbè qui bisogna prendere un po' di confidenza e vedete che trascinando in alto senza neanche cliccare quindi praticamente si clicca per selezionare e poi si gira ok quindi l'errore che facevo era quello di tenere cliccato il mouse tenete conto che questo modo di costruire a me non mi esalta però insomma è un punto di partenza questo qui è un oggetto che stiamo facendo che ha come vedete un po' di proprietà l'abbiamo esteso l'abbiamo costruito da zero senza nessuno strumento possiamo fare dei buchi in questo oggetto quindi facciamo block remove qui abbiamo l'immissione del pennello vedete così supponiamo di fare un buco qua ok e abbiamo fatto la nostra finestrina anche qua e facciamo un po' il nostro effetto perfetto quando abbiamo finito di fare questa operazione next e poi possiamo dipingere la nostra costruzioncina quindi dipingiamo come clicchiamo sulla qua apriamo la finestra con la libreria dei nostri materiali questi sono dei materiali già esistenti prendiamo per la plastica qui possiamo anche scegliere un colore diverso dal rosso comunque se ci selezioniamo questa cosa vedete che abbiamo fatto abbiamo selezionato e abbiamo impostato la nostra cosa ora a questo punto dobbiamo trovarci casa quindi dove andiamo cerchiamo un posto dove andarsi tranquillamente ci viene regalato una casa andiamo a Serene Springs ci trascina in questo posto e voilà adesso noi abbiamo la possibilità di costruire e qui in questo posto dove siamo arrivati vedete che ci sono dei vicini e soprattutto abbiamo il nostro oggetto appena costruito che ci viene lasciato per comodità qui loro cerchiano di usare il build il build sarebbe una funzionalità che vedremo più oltre il problema è che se io faccio adesso build visto che sono entrato con un account di guest o verifico con facebook quindi clicco qua o con google plus se non mi piacciono nessuno dei due l'unica possibilità che ho è di verificare con una carta di credito in realtà è tutto gratuito non c'è bisogno di spendere nulla il motivo per cui chiedono questa verifica è che vogliono essere garantiti che se voi fate qualche cosa di grave tipo rubare o inserire degli oggetti rubati delle mesh rubate questo è un problema che i mondi virtuali hanno tutti loro sono in grado comunque di capire chi siete e quindi di poter eventualmente fare un'azione legale nei vostri confronti questo non tanto per essere cattivi nei vostri confronti ma per proteggersi a norma di legge per tutti i paesi come ad esempio l'america che protegge per legge la proprietà intellettuale e a maggior ragione anche alcuni stati europei dove anche questo concetto è abbastanza forte quindi se vi compare questa cosa qua non potete costruire o fare delle cose sofisticate quindi facciamo cancel non potete andare nel marketplace no nel marketplace potete andare ma probabilmente non riuscite a pagare finché non avete quindi sono limitate un po' di operazioni e pazienza quindi cercate di rimanere in quello vediamo nei prossimi tutorial altre cose importanti che si possono fare buonasera grazie a tutti